Ciao amici ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo del T818 della Thrustmaster, il nuovo Direct Drive che viene presentato, oggi ho visto, ho sentito una live eccetera eccetera e ci siamo ritrovati con questo bel volantino che tutti quanti aspettavamo perché ovviamente come dico sempre quando ci sono nuove proposte sul mercato che offrono concorrenza non fa altro che bene alle nostre tasche perché si presentano con dei prezzi interessanti tranne Logitech che abbiamo discusso abbastanza negli ultimi video che abbiamo fatto quando è uscito quindi Thrustmaster con un pelino di anticipo perché mi aspettavo piuttosto verso il 22-23 di novembre esce con questa bella base che scopro assolutamente con voi perché non ho avuto il tempo, l'ho appena vista quindi andiamo a scoprire insieme, so che il prezzo è di 649,99€ da preordinare con una configurazione che adesso vediamo quindi leggiamo un attimino che c'è scritto, scopri una guida realistica e senza filtri senza filtri, con la base per volanti Thrustmaster T818, godi di tutta l'intensità della guida con la T818 spinta dalla tecnologia Tired Drive, la T818 è stata appositamente concepita con l'obiettivo di garantire prestazioni e una risposta realistica. Ideale per gli esperti, il livello esperto, vediamo un attimino quella che è la presentazione ha la possibilità di personalizzare la scocca, tanto c'era la scocca come dicevo superiore con una certa colorazione quindi potenza senza filtri, gli effetti trasmessi dal videogioco vengono replicati dalla base T818 senza filtro bisogna capire questa cosa qua accelerazione angolare ottimizzata, tutto il potenziale della tecnologia Force Feedback Direct Drive sistema aggancio volante, sgancio rapido, vabbè, quick release ma sembra almeno Thrustmaster compatibilità retroattiva e futura con tutti i volanti da corsa dell'ecosistema Racing Thrustmaster LED RGB dinamici integrati a dei LED RGB secondo uno schema esagonale dove? Ah! Ah qui! Ok! Yes! vabbè personalizzazione adattività, placche metalliche intercambiabili vabbè, sotto il comodo, il design è stato ottimizzato per sfruttare a 10 Nm di potenza quindi quasi possono iniziare a fare i paragoni con Logitech, con Fanatech eccetera mi sembra che sia materiale abbastanza cioè, sia plastica ovviamente che materiale tipo alluminio che ne so, bisognerebbe vedere potente velocissimo e ti permetterà di provare le sensazioni tipiche del mondo vero poi, potenza senza filtri, vediamo se spiegano un po' meglio gli effetti trasmessi dal videogioco vengono replicati dalla base T818 senza alcun filtro per una riproduzione incredibilmente fedele e dettagliata delle reali intenzioni dei programmatori del gioco più informazioni hai a disposizione sulla punta delle tue dita tanto meglio potrai conoscere ogni singolo aspetto del veicolo che stai guidando compresi i suoi limiti ma fa attenzione, ogni potenziale errore potrebbe costarti ancora più caro nessuno ha mai detto che guidare a 200 km all'ora sia semplice questa parte qua la farrei, la devo far analizzare da due personaggi che conosco va bene, poi retrocompatibilità, il quick release questo mi sembra, poi leder, ok, quanto pesa? 5 kg ecco tutto quello che c'è allora, questi francesi da Adras Master, che hanno detto? Che ne fanno? allora, intanto non abbiamo un volante, non credo almeno quindi, vabbè non abbiamo un volante ragazzi abbiamo solo la base, 650 euro allora cosa dire? allora, le impressioni, e comunque che il motore sembra molto, cioè non ci sono però le misure però sembra abbastanza imponente, no? questa idea dei led esagonali è una novità perché poi bisogna vedere come si comporteranno questi led la potenza mi sembra di tutto rispetto 10 Nm però il discorso di senza filtri bisogna capire perché un volante io non sono l'esperto della situazione però che io sappia, un volante da leg drive la sua potenza è sfruttata quando viene filtrata bene perché sappiamo che uno dei problemi di quel famoso volante della Fanatec, anzi i due modelli il problema loro è proprio che non riescono a gestire questa tutta sta forza e che la restituzione di quello che è il dettaglio non è quello che ci si aspetta veramente quindi, ecco contrariamente a un altro grande non faccio nomi ragazzi un altro grande produttore che invece fa della sua forza proprio i filtri e riesce a gestire questi filtri dando possibilità di fare delle curve con delle potenze assurde e avere sulle punte delle dita per riprendere le parole di Thrustmaster proprio quel feeling che uno cerca, un pilota cerca per poter guidare con delle sensazioni fantastiche e bellissime allora, in realtà si può configurare ho detto una cagata allora, siccome c'è la retrocompatibilità con i volanti i prezzi si possono fare se io prendo una 599XX EVO da 650€ ne metto 200 sono, quanto sono ragazzi? 850€ senza pedaliera attenzione il che mi pare allineato con quelle che sono le offerte di Fanatec se non sbaglio perché con 900 si ha anche no, 900 si ha anche la pedaliera però si ha un 8 Nm con un adattatore e poi ovviamente si va a mettere 400€ se si vuole un Formula Will Addion Ferrari SF1000 189€ per un Will Addion che è vecchio quanto me io lo sparco da 200€ e poi ovviamente se uno vuole rimanere con il bundle compatibile delle pedaliere il minimo sono 129€ della T3PM quindi se io dovessi fare un conto rapido, rapido calcolatrice ecco, e diciamo allora, facciamo 129€ ma proprio più scarso 659€ più abbiamo detto un volante più scarso mettiamo in prezzi mi pare che sia 130€ vabbè ma ragazzi 150€ del T3 cioè 150€ siamo più o meno con il bundle allineato di Fanatec quindi già anche se Logitech ha una cella di carico da 100kg diciamo che Trussmaster la giocata di Fino a livello di mercato secondo me perché si allinea a quello che è il suo diretto concorrente che è Fanatec e propone praticamente la stessa base in termini di potenza di Logitech cosa aggiungere ragazzi a questa comunque bellissima notizia? cosa? cosa? nulla è una figata pazzesca io ovviamente il mio io non comprerei questa io comprerei altro però secondo me è per il mercato questa è una cosa più che fantastica lascio a voi come al solito i commenti perché questo è fantastico bisogna commentare questa uscita di questo T818 retrocompatibile con tutti i suoi accessori e sono veramente impaziente di sentire e leggere i vostri commenti in merito a questa uscita di questo T818 si vede che non avevo preparato nulla ragazzi lo sto facendo proprio così ho avuto la notizia che ho letto su un gruppo ho detto vabbè andiamo a vedere e quindi la sto facendo così a volo cosa ne pensate di questo T818 non è una figata pazzesca prima di Natale? grazie per avervi seguito e come al solito ragazzi pollice in su se vi è piaciuto questa mega cagata di video che ho fatto noi ci vediamo prestissimo iscrivetevi al canale da Fabrice è tutto ciao grazie a tutti